premetto che questo sarà un video piuttosto breve dove mostrerò gli acquisti gli ultimi acquisti che ho fatto durante questo weekend al mercatino delle pulci qua alle porte di Milano sarà un video breve perché ho acquistato ho trovato veramente pochi modelli soltanto 5 più che altro ho cercato di fare degli acquisti mirati per completare alcune collezioni di automobiline vintage che sto facendo con l'idea poi di restaurarle comunque vediamoli nel dettaglio a cominciare da questa Rolls Royce Silver Shadow 2 la numero 39 della Matchbox che è stata prodotta della Matchbox tra il 79 e l'84 è questa rosso metallizzata la versione del 1981 in discrete condizioni io non sono un grande appassionato delle Matchbox soprattutto delle Matchbox super fast però ne ho diverse questa pagata un euro condizioni discrete a parte le ruote qua dietro che non girano però è interessante anche nell'ottica di un futuro restauro ecco questo è un modellino penny politois la serie formula 1 è la ferrari 36 v numero 9 scala 166 e sono particolarmente contento di averlo trovato anche se in condizioni abbastanza scadenti perché manca il il trasparente mancano gli specchietti retrovisori in plastica collaterali e manca anche l'umino il pilota però io queste questa serie della Politois scala 166 formula 1 la sto collezionando da parecchio tempo e questo è veramente l'ultimo modellino che mi mancava per iniziare poi il 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 restauro peraltro penso di avere dei trasparenti e dei piloti spera da utilizzare come pezzi di ricambio quindi insomma si pronuncia un restauro non impossibile ecco questo è un altro modellino interessante un'altra collezione che sto facendo questa è sempre un brand italiano mercuri speedy della serie speedy la mercuri è un marchio italiano che è famoso soprattutto per aver prodotto scale un po più grandi però si è anche cimentato nelle scale più piccole questa dovrebbe essere sempre una scala 1 e 66 e con dei prototipi qui parliamo degli anni secondo me fine anni 60 inizio anni 70 io questa l'avevo già questa è la Ferrari 250 Le Mans la numero 906 se non erro sì 906 speedy l'avevo già però in discrete condizioni questa è in condizioni un po peggiori e l'idea è di completare la collezione in questo caso mi mancano ancora un paio di modelli completare anche la collezione delle speedy della mercuri e poi provare a restaurarle andiamo avanti questa è un'altra polisteel che sono particolarmente contento di avere trovato è la serie rj delle polisteel formula 1 questa in particolare è la rj 66 è la braban alfa romeo bt 48 che io non avevo e quindi sono contentissimo di avere trovato in discrete condizioni tra l'altro non è facile è un modellino rispetto ad altre della serie rj formula 1 che sono più facili da trovare questo è abbastanza raro discretamente raro non l'avevo mai trovato comunque purtroppo la base decisamente rovinata si legge rj 66 si legge alfa si legge polisteel made in italy ma gran parte della base purtroppo è rovinato comunque anche questo anche questa è una collezione che sto facendo e che spero di completare vedremo me ne mancano ancora un po' però siamo ben avviati ecco l'ultimo modellino questa è una hot wheels una red line si tratta della mercedes benz c 111 che è stata prodotta dalla hot wheels sempre come red line tra il 72 e 77 e questa è una delle ultime versioni quella con la base nera in in plastica è del 76 comunque è pur sempre una red line io non sono un collezionista di red line anche perché qua in italia se ne trovano anche nei mercatini delle pulci se ne trovano veramente poche però 2 euro è in discreto stato perché comunque non ha problemi particolari a parte la vernice e le decal che si sono cancellate però le queste porte alla di gabbiano funzionano piuttosto bene e poi insomma ecco qua le ruote red line che fanno sempre il loro effetto e pagata 2 2 euro valeva la pena acquistarla vi ringrazio di aver assistito questo video e vi aspetto per il prossimo